Mercato in centro, è un sogno o si potrà realizzare? La sperimentazione che è stata effettuata dal Comune di Lecco è stata sicuramente positiva. È stata positiva sia, e non era una novità, quella del mercato in centro nella giornata di sabato, che questa sera una novità la sperimentazione che è stata effettuata nella giornata di mercoledì nei mesi estivi. Per Coffcommercio Lecco noi siamo favorevole affinché il mercato si sposti in centro, anche perché abbiamo assistito in questi ultimi anni ad una riduzione del numero delle bancarelle e pertanto si riesce, si riuscirebbe quindi a posizionare, la sperimentazione mi ha dato prova, il mercato in centro. È chiaro che ci si deve confrontare con il Comune, che si è dichiarato ad oggi molto disponibile, molto aperto, per capire quali possono essere le loro linee, le loro disponibilità, le loro esigenze. Mi riferisco in particolar modo all'impegno, all'occupazione dei due parcheggi nella giornata di sabato, di Piazza Fari e di Piazza Mazzini. Quindi presumo che questo sia un aspetto da tenere in considerazione comunque da parte dell'amministrazione comunale. C'è stato un incontro una settimana fa, interlocutorio, ci aggiorneremo prossimamente, ma confido che quantomeno il mercato in centro possa diventare una realtà, magari in maniera graduale, ma possa diventare una realtà. Quindi l'ostacolo, il dialogo è sui parcheggi o ci sono altre questioni? No, sostanzialmente è quello, ci possono essere alcune altre situazioni, dovremmo riuscire a trovare un accordo con l'amministrazione comunale che sul tema si è dimostrata da sempre molto disponibile al riguardo. Quindi buone speranze, prospettive? Mi auguro di sì, poi vedremo. Grazie.